E quindi questa squadra, questa società, questo gruppo di persone che fanno il Milan ogni giorno lo ha voluto fortemente ed è arrivata dritta all'obiettivo. Non ho finito di tartassarti di domande e di curiosità, però dobbiamo dare il nostro benvenuto questa sera ad Alberto da Milano, il nostro primo abbonato in collegamento con Milan Channel. Buonasera Alberto. Buonasera. Buonasera Alberto. Grande Milan, grande Milan, canzoni del mondo. Certo. Benvenuto a Milan Channel Night, la tua domanda. Beh, dopo una grande vittoria come questa, da gennaio gli obiettivi della stagione nuova e poi sapere un po' quali saranno magari gli eventuali acquisti prossimi, anche se la squadra campione del mondo in teoria può partire già con l'anno nuovo così, però insomma... Va bene Alberto, allora se era tutto continua a seguirci perché adesso ne parleremo con il direttore. Grazie e buona serata. Buona serata anche a voi, grande Milan, super cacca ieri e i zaghi la mette sempre, un grande. Esatto. Anche se è Edorf comunque. E anche se è Edorf, certo. Grazie. Grande Milan, vi seguo sempre, saluti a Suma, a Pelle Gatti e a tutti. Ciao Alberto, grazie. Grazie Alberto. Buona serata, ciao. Buona serata. Grazie, questo è l'entusiasmo tipico dei tifosi che hanno seguito in questo modo, sia attraverso i messaggi che le mail, comunque a Milan Cianel è sempre stato così tutti i giorni, hanno accompagnato questa trasferta in questo modo. Il calore si è sentito, quindi... Poi ci si rende conto Benedetta, nel senso che insomma io ricordo magari dopo qualche pareggio casalingo in campionato, dopo qualche sconfitta casalinga in campionato, allora voi snobate il campionato, allora se voi snobate il campionato...